Immagina di trovarti nel bel mezzo di una storia d'amore avvolta da misteri e tensioni palpabili, dove ogni sguardo e ogni parola sussurrata sembrano carichi di significato. I protagonisti, legati da un sentimento profondo, navigano tra le insidie del loro passato e le speranze per un futuro insieme, ma tutto cambia in un istante quando un evento drammatico irrompe nella loro vita, la morte improvvisa di Cimena. Questo tragico colpo di scena non segnerà solo la fine di un capitolo, ma frantumerà gli equilibri instabili alla promessa, il luogo dove le loro vite si intrecciano. Le conseguenze di questa perdita si faranno sentire come un'onda inarrestabile, portando a una serie di eventi inaspettati che scuoteranno le fondamenta delle loro esistenze. I segreti nascosti verranno a galla, rivelando verità scomode e alleanze inaspettate. I legami tra i personaggi si intensificheranno, mentre il dolore e la ricerca di giustizia si mescoleranno in un turbinio di emozioni. Rimanete con noi fino all'ultima pagina per scoprire come si svilupperà questa trama avvincente, ricca di colpi di scena e sorprese che vi lasceranno senza fiato, costringendovi a riflettere su quanto possa essere fragile e preziosa la vita. Non perdete l'occasione di immergervi in questa narrazione che promette di tenervi incollati fino all'epilogo. Le anticipazioni rivelano che Abel sarà costretto da Manuela a lasciare il palazzo, ma non è tutto. Il marchesino e Gianna si allontaneranno, mentre Manuel si troverà in preda alla confusione. Sapete perché? Ximena aveva scoperto la loro relazione prima di togliersi la vita e questo peso gravoso peserà sul cuore di Manuel. Gianna, in cerca di conforto, si confiderà con Maria Fernandez, creando tensioni e alleanze inaspettate. Ma cosa succederà quando Ximena affronterà le conseguenze delle sue bugie sulla gravidanza? La situazione si farà insostenibile e i duchi dello Sinfantes convocheranno Ximena per rivelarle la verità. La reazione del duca sarà spietata e Ximena, umiliata, si troverà a un passo dal baratro. Non perdetevi il momento cruciale in cui la donna si lascerà cadere nel vuoto, sotto gli occhi increduli degli abitanti del palazzo. Sarà un momento che cambierà per sempre le vite di tutti i personaggi coinvolti. Dopo la tragica morte di Ximena, Manuel si sentirà in colpa, riflettendo sul comportamento di Abel che ha sempre sostenuto Ximena nonostante le sue menzogne. Questo porterà Manuel a prendere una decisione drastica, allontanare Abel dal palazzo. Ma come reagirà Ximena a questa situazione? La sua comprensione del comportamento di Abel potrebbe rivelarsi un elemento chiave in questo dramma. E non è finita qui. Con l'arrivo di Blanca, la bellissima nuova inquilina del palazzo, Manuel troverà finalmente qualcuno con cui confidarsi e aprire il suo cuore. Tuttavia, i crescenti sospetti di Cruz nei confronti della ragazza creeranno ulteriori complicazioni e tensioni all'interno del gruppo. La tragedia avvenuta di recente al palazzo, che ha sconvolto tutti i residenti, non sarà facile da superare. Yana, la dolce amica di Manuel, si allontanerà sempre di più da lui, rendendo la situazione ancora più tesa e difficile da gestire per il povero ragazzo. Cosa riserverà il futuro per Manuel e i suoi amici? Riusciranno a trovare la forza di andare avanti nonostante i recenti eventi drammatici? E soprattutto, chi è veramente Blanca e perché Cruz nutre così tanti dubbi su di lei? Le risposte a queste domande e molto altro vi aspettano nei prossimi capitoli di questa avvincente storia. Blanca, la nuova inquilina, porterà scompiglio nel palazzo. Manuel trova in Blanca una confidente, ma Cruz non si fida di lei. La tragedia sconvolge tutti. Yana si allontana da Manuel. Mentre le tensioni aumentano, Manuel non potrà ignorare il fatto che Shimena sapeva della sua relazione con Jana. Questo lo tormenterà e lo porterà a riflettere su ciò che è realmente importante per lui. Nel frattempo, Cruz inizierà a sospettare che l'amante di suo figlio possa essere Blanca, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama. In questo scenario di segreti e rivelazioni, Jana confiderà a Maria che Shimena aveva scoperto tutto riguardo la sua relazione con Manuel. Sarà un momento di grande vulnerabilità e tensione che potrebbe cambiare le dinamiche tra i personaggi. Nelle puntate precedenti di questo avvincente dramma spagnolo, abbiamo assistito a un crescendo di tensioni e colpi di scena che hanno tenuto incollati i telespettatori. Manuel e Shimena, due anime tormentate legate da un matrimonio di facciata, hanno raggiunto un punto di non ritorno quando la disperazione ha spinto Shimena a un gesto estremo, dare fuoco alla promessa, la tenuta che rappresentava il loro legame. Nonostante le sue promesse di combattere per salvare il loro matrimonio, Manuel ha finalmente trovato la forza di seguire il suo cuore e dichiarare il suo amore per un'altra donna. Questo coraggioso gesto ha scatenato il caos, sconvolgendo gli equilibri precari che tenevano insieme la loro unione. Shimena, ferita nell'orgoglio e nel cuore, ha deciso di indagare sull'identità della misteriosa amante di suo marito. La sua determinazione a scoprire la verità la porterà a intraprendere un viaggio fatto di colpi di scena, rivelazioni inaspettate e confronti emotivamente intensi. Mentre Manuel si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni, Shimena si ritrova a dover fare i conti con i propri sentimenti e a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. Questo sconvolgimento di emozioni e dinamiche familiari getta ombre inquietanti sul futuro della coppia, lasciando i fan con il fiato sospeso e la curiosità di scoprire cosa riserverà loro il destino. Rimani sintonizzato per non perderti i prossimi episodi di questo avvincente dramma spagnolo, dove passione, tradimento e speranza si intrecciano in un turbinio di eventi che lascerà il segno. La promessa continua a regalare colpi di scena mozzafiato, dimostrando ancora una volta di essere una delle serie più emozionanti e coinvolgenti del momento. La minaccia di Shimena di rivelare tutto se Manuel non fosse partito con lei per Madrid aggiunge un ulteriore livello di tensione. Come si evolverà questa situazione? Rimanete con noi per scoprire le conseguenze di queste scelte fatali. In conclusione, la morte di Shimena e le sue ripercussioni alla promessa porteranno a colpi di scena inaspettati e a relazioni tese tra i personaggi. Non perdetevi i prossimi episodi, dove ogni decisione avrà un peso e ogni segreto potrebbe venire a galla. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi su questa avvincente trama.